A distanza di 24 ore dall'incredibile salvezza della Salernitana, che nuovamente in questa stagione, in questo anno, è risorta e rinata quando tutto sembrava finito. E' accaduto l'estate scorsa, quando sembrava che i Granata non riuscissero a trovare una soluzione per l'iscrizione alla Serie A, dopo averla guadagnata meritatamente sul campo. Poi è arrivato il Trust, diciamo, a dare la possibilità al club Granata di partecipare al torneo di massima serie, anche se con mille problematiche che ben conoscete. E' risorta a fine dicembre, il 31 dicembre, nella notte del 31 dicembre, quando mancavano pochi minuti alla fatidica scadenza che era stata data dalla Federazione per il passaggio di consegne da Lotito e Mezzaroma in una nuova proprietà. Ieri, domenica 22 maggio, quando l'Udinese ha segnato il terzo gol, in pochi ormai pensavano che la Salernitana riuscisse a conservare la Serie A. Il campo stava maturando qualcosa di inaspettato, soprattutto in termini di prestazione, dopo una rincorsa fantastica. La squadra, di fronte ad una situazione, a questo forte fardello, diciamo, a livello psicologico, di dover arrivare a scombire quest'ultimo passo, dopo aver speso tante energie, si è ritrovata spenta, si è ritrovata consumata, soprattutto dal punto di vista, ripeto, mentale. Sono quelle, come se a un certo punto la tensione avesse consumato tutte le energie, l'energie residuali, perché poi siamo a fine stagione, è chiaro che dopo una lunga rincorsa, come quella dei Granata, non è che si è brillantissimi. È ovvio che ti tengono a galla, che in certe situazioni poi la condizione psicologica forse è anche più importante di quello che ti dicono le gambe. Ecco, in questa occasione la tensione ha giocato un brutto scherzo alla Salernitana. Io credo che al di là del fatto di lamentarsi, come è accaduto spesso durante questa stagione, da parte di alcuni sportivi, tifosi, sull'impegno dell'avversario, piuttosto che su un arbitraggio in particolare o su una designazione. Insomma, la partita in la Salernitana avrebbe potuto affrontare anche la primavera dell'Udinese e avrebbe riscontrato le stesse problematiche che ha avuto il Cagliari a Venezia, giocando con una squadra rimaneggiatissima, una squadra che non presentava nel suo 11 i suoi interpreti migliori e comunque non ha fatto gol. Non ha fatto quel gol che avrebbe consentito ai Sarti di salvarsi. Per fortuna per la Salernitana che ha guadagnato questa prima storica permanenza in Serie A nelle due precedenti occasioni. Come sappiamo era andata male. Diciamo che questo pizzico anche di fortuna che c'è stata alla fine, perché per quanto concerne il percorso credo che la salvezza sia pienamente meritata perché alla Salernitana non è stata neanche data la possibilità, almeno per metà campionato, di partecipare come si deve a questo torneo di Serie A per tutti i problemi che abbiamo detto. Quindi nel momento in cui la Salernitana è scesa in campo con un organico adatto alla situazione ha dimostrato di meritare la categoria e di conseguenza anche questo pizzico di fortuna che non c'era stato nel 98-99 dove la Salernitana ha sicuramente meritato la permanenza in Serie A e anche nella precedente occasione con la biffa, il famoso arbitraggio della partita con la Roma, l'arbitro Pire in quell'occasione, se non ricordo male, voglio dire un po' la tea abbendata si è ricordato anche della Salernitana, qualcuno ha ricordato anche che ieri era Santa Rita volendo un po' mischiare il sacro al profano, la santa dei casi impossibili, quindi ieri sera era veramente una situazione impossibile ad un certo punto, ma a volte il calcio scrive storie incredibili, quella della Salernitana è una storia di quest'anno, è una storia davvero incredibile da romanzo, io credo che se ne parlerà a lungo, al di là poi del fatto che sicuramente è stato un torneo particolare, ci si è salvati con il punteggio più basso della storia della Serie A, però ripeto, per tutta una serie di situazioni è stata una stagione veramente da romanzo e da raccontare ai nipoti, comunque che resterà nella leggenda non solo della Salernitana, ma io credo che sia una pagina importante anche per quanto riguarda il calcio italiano. C'erano alcune situazioni che non tutto è andato via liscio come l'olio, ci sono state delle storture, non mi sono piaciute in questi mesi alcune uscite, al di là delle lamentere di cui ho detto già in precedenza, di lamentarsi a ogni designazione, di lamentarsi dell'impegno dell'avversario, o del portiere o di quell'altro giocatore, io credo che nello sport si è perso un po' quella filosofia. Noi ragioniamo troppo all'italiana, c'è bisogno di una svolta. Poi la gente pretende che le cose nella vita comune di tutti i giorni vanno in un altro modo, ma poi se ogni cosa che uno fa, in ogni cosa che uno fa c'è una cultura del sospetto, allora è anche difficile vedersi seguire un evento in determinato modo. Voglio dire, durante una settimana ci si arrovella su tante di quelle cose incredibili, ci si accapiglia, ci si fa la guerra su tante cose che non hanno niente a che fare con il campo. Cioè non è che sento, prima si discuteva, gioca questo piuttosto che quell'altro, perché non ha impiegato quel giocatore in quella posizione del campo, o piuttosto perché ha schierato Pinco invece di Pallino, tanto per non voglio fare poi nomi, però voglio dire, prima era questo il motivo del discernere del tifoso. Oggi vedo che insomma ci sono preoccupazioni che vanno ben oltre quello che è il gioco del calcio, che è lo sport, cioè ci si preoccupa se il disegnatore, se l'arbitro disegnato ha determinati precedenti con una determinata squadra, la provenienza, se è un parente, se è un cucino, se è qualcuno che è stato impiegato con quello o con quell'altro. Ci si preoccupa dei rapporti tra un presidente e un'altra squadra. Il calcio, lo sport, dichiari che poi nella pratica comune è chi arriva prima dell'avversario, è chi arriva a ripri e tagliare il traguardo prima dell'avversario, inteso come sic e sempliciter come questo, ormai è proprio un elemento che nella discussione diventa quasi ornamentale, non di primaria importanza. E queste sono quelle storture che nel momento anche in cui la Salernità stava operando un importante sforzo non mi sono piaciute, perché poi si arriva a dare delle pressioni. E' vero che poi i calciatori sicuramente non ascoltano tutte queste cose, il calciatore e lo staff tecnico, però si va a creare un'ulteriore pressione laddove già c'è la pressione per un risultato non facile da conseguire. Non mi sono piaciute alcune intrusioni di chi non fa parte, diciamo, dello staff tecnico dirigenziale, efficienziale, magari per valutazioni inerenti, calciatori, in modo di giocare, futuro, scelte future, eccetera, eccetera. A volte mi sono sembrato un po' fuori luogo, da parte di qualcuno in orbita salernitana, molto vicino al Presidente. Non mi è piaciuto il Presidente, che solitamente è sempre perfetto nella comunicazione, perché è una persona che viene ovviamente da una realtà come la Pegaso, insomma, sappiamo in cui saper dire le cose, saper intervenire al momento giusto, saper effettivamente come muoversi è fondamentale. Da un uomo di comunicazione come Ierbolino, non mi è piaciuto quando, per esempio, dopo il pareggio col Sassuolo, ha detto che l'Instant Team è stata una delusione, è stato sbagliato, eccetera, eccetera, quando mancavano ancora due mesi di campionato, più di due mesi di campionato. Io credo che, anche su questo poi il Presidente, probabilmente da neofita della materia, abbia compreso che, prima di dare dei giudizi definitivi, bisogna aspettare che si arrivi alla matematica, all'ufficializzazione di un fatto, di un risultato, di un evento. E in questo caso, secondo me, ha finito poi per dare la stura a chi in quel momento stava cavalcando la tigre per attaccare il direttore sportivo, che anche lui ha fatto mea culpa, secondo me, anche per la sua generosità, per quello che è il suo modo di intendere la vita, la sua onestà intellettuale. Però, ripeto, queste considerazioni sono state, secondo me, dal Presidente, che invece doveva prendere la palazzo e difendere a pieno titolo il lavoro del direttore sportivo, che non può passare dal profeta della situazione all'ultimo degli arrivati, o comunque da un lavoro messo in discussione quando non siamo neanche a metà dell'opera, perché ci voleva del tempo. Anche Nicola ha fatto delle scelte che hanno fatto discutere fino a un certo punto, però lui stava sperimentando, stava sperimentando per trovare la quadra. Poi qualche cosa nel finale, lui è un grande motivatore, su qualche scelta poi nel finale, ma ci può stare, ci può stare che la pressione, la voglia di fare qualcosa di in più, la mancanza di soluzioni, perché alla fine Nicola ha ruotato quasi sempre gli stessi, parliamoci chiaro, ci sono giocatori che erano nella, andavano in panchina, ma non sono stati mai impiegati durante la sua gestione. Quindi, non ritenendoli evidentemente in sintonia, in linea con quelle che sono le sue idee calcistiche. Qualcuno parla, per esempio, di bocciatura, oppure facendo considerazione anche su singoli giocatori acquistati a Gennaro, di Mikael. Mikael è un giocatore che ha avuto pochissimo spazio, pochissime opportunità per mettersi in mostra. Quando è entrato, ha fatto intravedere comunque cose importanti. Perché abbia avuto pochissimo spazio? Questo poi lo sa l'allenatore, che evidentemente non l'ha visto pronto in alcuni movimenti, in alcune giocate, soprattutto dal punto di vista tattico, forse ha bisogno di crescere. Ma sul fatto che questo giocatore abbia delle qualità, insomma, io credo che qualcosa ha fatto intravedere, però uno non può dare giudizio a chi ha giocato degli scampoli di partita. E tra l'altro, parliamo di un giocatore che in madrepatria è molto considerato. Tant'è che se vi andate a scorrere ogni profilo Instagram della Salernitana, ogni qualvolta si giocava la partita e in formazione non c'era mica, apriti cielo con i tifosi dello Sportresif che contestavano questa decisione. È anche un giocatore che proveniva da un'altà di cui era, diciamo, il leader e quindi era uno dei punti di riferimento. Quindi si è trovato improvvisamente adesso a dover entrare in sintonia con un calcio diverso da quello sudamericano, quello brasiliano. Si è trovato comunque a dover recitare quello di secondo piano, dover guadagnare posizioni, probabilmente tutta una serie di cose che in poco tempo non l'hanno portato a diventare un elemento per questo scorcio di campionato fondamentale per la Salernitana. Ma nulla vieta che questo giocatore sia poi fondamentale, sia importante in futuro. L'unico che mi ha fatto sovvenire un po' di dubbi su quanto riguarda l'aspetto tecnico, tattico e Musset sul quale non so se poi la Salernitana deciderà di puntare ancora. Queste erano alcune annotazioni senza andare troppo per le lunghe. Poi ci sarà modo di tornare sulla Salernitana, sul futuro, sulle scelte, perché ovviamente si sta sono ancora la società ancora in clima di festeggiamento. Io credo che in linea di Massimo c'è la volontà un po' di confermare tutti a livello sia di staff tecnico sia per quanto riguarda l'aspetto dirigezzale con Sabatini, ancora direttore sportivo. Però è ovvio, dobbiamo attendere anche le decisioni dei singoli perché poi può darsi che loro prendano altre decisioni. Questo è quanto per il momento. Ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti sulla Salernitana. Seguiteci su www.notiziaudaci.it